Ben trovati nell'angolo dello sport. Al momento attuale Avellino, Bari e Cesena sono state escluse dalla Serie B. Perché dico al momento attuale? Beh, perché hanno tempo fino al 16 di luglio di presentare degli aggiustamenti, poi degli aggiustamenti per difendersi naturalmente. Poi bisognerà aspettare il 20 di luglio per le decisioni che prenderà la Lega, ma ci sarà anche tempo fino al 26, che sarà l'ultimo atto per la decisione. Si può prevedere che l'Avellino in un modo o nell'altro possa farcela, che il Bari in un modo o nell'altro deve recuperare 3 milioni di euro, ma pare che ci siano le possibilità, le potenzialità per poterlo fare, perché hanno messo in vendita delle quote e quant'altro. Quella che verrebbe invece ad essere, a trovarsi nell'inferno vero e proprio, è il Cesena. Pregano i tifosi della Ternana perché, nella eventualità della mancata iscrizione del Cesena, la Serie B la farebbe la Ternana. Passiamo in casa nostra. Il Pescara sta lavorando a pieno ritmo, il tecnico Pilon che il mio regista, Leo Di Blasio, ha messo come sottofondo, si dice soddisfatto. Spero che lui sia soddisfatto veramente, concretamente, che creda fortemente in questa situazione. Perché ho l'impressione che, dati i movimenti che ci stanno, qui si parla di Marras che è un esterno d'attacco dal Trapani che ha avuto 33-34 presenze con 3 gol, pare che si aspetti Gatto ancora, che si stia riavvicinando la possibilità di avere Tutino, pare Monachello in arrivo, però pare, sembra, si dice, però in definitiva di carne veramente sulla graticola da cuocere, da mangiare c'è ben poca cosa. E non vorrei che i tifosi restassero a digiuno. E non vorrei nemmeno che tutta questa dimostrazione di fiducia da parte del Ministro e del Presidente, il quale è naturalmente personalmente interessato a far sì che la massa dei tifosi abbocchi, che si faccia tutto quanto questo per cercare di fare qualcosa di buono in una campagna di abbonamento che sembra piuttosto asfittica. È vero che ci sono delle correnti di pensiero diverse. C'è una parte di tifosi che dice non me ne frega niente di Sebastiani, non me ne frega niente di nessun altro, mi interessa soltanto il Pescara e io mi abbono in quanto amo il Pescara e voglio andare a seguirlo. Un'altra corrente di pensiero dice i miei soldi a questo mercante del calcio io non glieli do. Allora vedremo un po' chi vincerà. È tutto per questa edizione, un affettuoso abbraccio a voi tutti come sempre da Gianni Lussoso e ringrazio particolarmente il regista Leo Di Blasio. Appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport. Grazie per la visione!